Buongiorno signor Pepe, Gambero Rosso, la rivista gastronomica, l'anno scorso ha apprezzato il suo panettone tradizionale al secondo posto nella sua graduatoria. Come ha fatto un campano residente in campagna a imparare così bene a fare i panettoni classici milanesi? La mia risposta è che ho iniziato a giocare con il lievito diversi anni fa, è una passione che porto con me dall'inizio. E a fare il panettone così buono anche a Gioval Sud è stato perché da noi non c'era nessuno ancora che faceva prodotti così artigianali, arrivavano solo con gli industriali e mi ha portato proprio a questo, a fare un prodotto di eccellenza nell'inizio. Penso che ci siamo quasi riusciti, non dico riusciti, quasi riusciti. Che tipo di ingredienti utilizzo? Materie nobili selezionate come dai candidi al burro, all'uetta, agli agrumi che utilizziamo, tutti i prodotti selezionati. Molto bene, io la ringrazio e auguro buona fortuna. Grazie a lei, grazie.